Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora dopo un bel peritempo siamo io la sera tornate together da soli e voglio fare per la prima volta su questo canale, perché è la prima volta, la reaction a un drama al prima puntata di un drama, e che drama esattamente siccome come ormai sapete ve l'ho detto in tutte le lingue, il nostro ultimo perché è anche il suo è Mino, Really Shiny, abbiamo deciso di fare la reaction insieme al nuovo web drama che ha fatto che è Somehow Eighteen ok direi che funziona aspetta questo momento che non puoi capire quanto come c'è va bene? aspetta! esatto ma perché fa il medic? si esatto, perché fa il medico? non mi sa che è tipo torna indio nel tempo è bellissimo è bellissimo soprattutto vestito da un medico ehm ahahahahahahahahahahahaaaa ahaha addosso oh ahahahah ma dai scendi ahahahah ahahahahahah ma perché non trovo dottori cosi? ahahahahahahahahahf Cioè, vabbè, è l'episodio 1, eh. Dai, ma che è... Ehi, 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 ciao! Posso farmi male anche io? No, ma veramente, cioè, mi vado a spaccare una gamba, eh. Che c'è, cosa su? Che poi in HD anche c'è, in HD questa cosa meravigliosa. Infatti... Ah, è peggio! Mi chiede, perché... Ah, è peggio? Mi chiede, perché... Lo leggerò a niente di quello che sta succedendo, me lo sento. Esattamente, in sostanza. Ma perché? Esatto. Esatto. Eh, vabbè, scusami, cosa vuoi? Belli, intelligente? Questo vuoi di più della vita. Esatto. Ma questo è proprio un problema mio, va bene. Tanti. Oddio, l'ho vista comunque cosa c'è. Guarda! La magnificenza. L'ho vista la mia seduzione. Esatto. Tipo l'aurea sopra. Ho trovato i miei anni a te. Eh, vedi che adesso parla di quando aveva 18 anni. Ah, ecco. Quindi forse adesso torna indietro. Ah, sì, è tipo una storia aumentata dal passato. Eh, sì. Ok, flashback. Esatto. Ah, c'è lui tipo tutto bellino, con i capelli rizzi, con gli occhialoni. Sì, ecco. Merda. Esatto. Guarda. Guarda già. Dalla bella. Esatto. Mi è piaciuto, è da lì non l'ho più visto. Eh, forse per quello. No, no, ma lei è bravo. Ah, lei è tipo la bullita. Sì. Ah, lei è giusto. He già detto. Sì, è giusto. Si, senti o beneath. È giusto. Sì, senti o service a me but Uh! Hah, in here. F Conti che rende. Quindi è anche builizzato Sì Possiamo andare a prenderlo Sì esatto Ora è un poteggiano Oh ma hai fatto qui Oh guarda Pomerino La differenza sta ceppa Ma dai Dai Mi stavo facendo male Ma proprio mi stanno conoscendo Ma perché si vuole suicidare allora? Sì Perché io ho visto che su una scena si metteva le cose al collo tipo Sul train Ecco è questo Allora avevo visto giusto Sì sul train questa cosa Sì 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 Che Sì 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 è un po' il contrario del soggetto infatti lui fa sempre in giro non ciò panni? si, si, si si, si, si si, si, si si, si 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 ma si se 85 45 43 44 44 45 44 45 E sta latino! E sta latino anche! Certo! Ma non ho detto come Harry Potter? Sì, sì, abbastanza! Top! Mi hanno fatto qualche giorno Mi hanno fatti Mi hanno fatti Cosa c'è adesso? Oddio Ma perchè questa qua? Noi, ma perchè? Mi viene mutata! Ma perchè? Mi spieghi perchè? Ah, sono più pezzenti lei Ah, l'ho buttata proprio lì? In sé che sì No, non era proprio brutto Vabbè, io spero che devo fare Sì, poi è da notare tutto insieme Non avevo troppo lì Sei in un momento tragico Vabbè Eh, è vero Ma questo è inquietante Perché è sopra il colore? Sì, un taglio Comunque mi piace l'outfit Sì, un taglio Ma non è un taglio Esatto Se si copre Non mi sa già tutto Sì Infatti Non c'è qua Ma perchè quella è sopra il cornicio? C'è le 6 Questa qua è ancora giocosa Cominciamo che non volevo uccidere No, però Non voglio Nooo Stai piangendo Cioè, io non posso Giami non mi piace mai, ok? Non mi piace, non mi piace E così, così In realtà è troppo Fa così Non mi piace No, non mi piace Non mi piace Non fanno Ma non c'è Perchè Noi krepano, daimensci a te dàmi freddo. Noi n Singapore drugge Nord una gara brillante. Noi? 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 Noi, noi c'è un problema. Ah рублей. Ah! è molto bene è vero 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 hai capito? se lo sentite dall'altra parte esatto è vero è vero ci sono gli occhiali che mi fanno gli occhi enormi infatti è troppo bellissimo ti fa ridere ma che miglia ridi cos'è film food? cosa vuoi fare? cosa vuoi fare? è vero è vero è vero è vero va bene è vero è vero è vero non l'ho sentito perchè ti voglio vedere cosa fa questa in mezzo un attimo sembra un'alga sembra un'alga si guarda si guarda c'è c'è il combino dietro esatto esatto che ha fatto? aspetta 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 poi è là così è una grande sta divo che è tutta ragione non potrebbe essere smottile guarda tutte quante grandissima ti prego eeeh cominciamo subito esatto questa canzone guarda 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 eeeh guarda 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 che mia mi fece non èермée i ragazzi si ma guarda cosa siV연 bastam moreanne è COTط riportare quando sei un giorno qui esatto non è in più no di camminate Senti con un motorola? Tantichita? Sì Ah, quindi era stavolta un minuto E beh certo che cos'è Deve fare la bulla Cos'è Anna B? Dio Nooo Cosa è la sua cerca di un mincar? Sì, secondo me sì Detti magari adesso Minho si mette in testa che deve proteggerlo O di mentre con i muscoli che si mostrano Ma che sì, ma sono letta Ma non è Ma no, glielo stanno facendo fare a lui Ma cosa? Sì, ma lui è talmente debole secondo me Sì, che esatto Cioè, scusa Scusa, scusa Ehm Ehm Infatti Sì, dovevo da brutto una droga diventa il ciglio Esatto Una roba Ma come se l'hai arrabbiata con lui? Vedete Tuis Ecco Ehm 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 Si è ucciso Come si è ucciso? Scusa Scusa Ma ha impedito lui Di essersi Però lei effettivamente era sopra il comincione Sì Sì, aveva Guarda No Vabbè, ci credo, cavolo Ehm Ma seriamente Scusa Ma questo tra pallone che cosa fa? No, ma infatti Si caccia Ma infatti quello che ho detto io ce l'ha detto a lui Di continuare a vivere e di non uscirci per gli idioti Ehm 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 Guarda, ci c'erano sulle crulli Che la vedi? Ehm Ehm Clubless Nooooo Ma cosa? Ti lascia un like e ti iscrivi al canale E noi ci vediamo alla prossima Ciao